Ciao a tutti, guerri e guerri 6, io sono Ferdinand e sono un gran fan di Serumun, oggi non si parla di Serumun ma di anime e di manga. Sì, ho un video precedente, avevo la stessa maglia come ho detto, l'ho ritrovata dopo secoli, per me è lunedì 18 novembre 2019, ancora buon compleanno il secondo video che vi registro, grazie. Grazie, per ora ho avuto solo un regalo che è la Funko Pop di Green Arrow, voi lo vedrete anche in un video dei regali di compleanno, poi vedremo un po' chi mi segue su Instagram, l'avrà visto in Instagram Stories o qualcosa del genere, poi vedremo un po' cosa, se ve lo farò vedere con altri regali, perché mia madre è andata al lavoro, quindi dice, mia sorella mi ha detto che c'è anche un secondo regalo da parte mia madre, poi c'è mio fratello, quello che abita qui, e poi i miei autoregali, penso un'altra persona mi deve fare un regalo, ora non mi ricordo chi, vabbè, lasciamo perdere. Da un video collaborazione, torno di nuovo con i video consigliere carlinatrizzi, questo appuntamento del mercoledì e del venerdì sarà fino a metà dicembre, fino al 20 dicembre, e saremo non solo io, colpe che collaborano Wex di Anime Garden Itta e Luca Metapixia, vi consiglio alla schermata finale di vedere anche i loro video. Allora, primo shonen, come ho detto sempre, ci sono negli altri tre video, abbiamo quattro categorie, manga shonen per i ragazzi, manga shoujo per le ragazze, vabbè, anche per i ragazzi, manga shonen per i ragazzi, manga shonen per un pubblico adulto, maggiorenne, aspettate tre, maggiorenne e a tema di violenza, quindi non adatto a un pubblico minorenne, categoria quattro, quarta categoria, sono i film e i videogiochi, in quello del 27 ho detto un videogioco. Primo shonen per i ragazzi, io l'anime l'ho visto negli anni 90, però non mi ha mai ispirato, perché io pensavo che era un manga spoken, un manga di genere sportivo, invece non è così, perché è uno shonen. Sto parlando di Capitan Tsubasa, in Italia conosciuto come Oli e Benji. Sono 37 i volumi del manga e della Star Comics, ora non so il prezzo, però Capitan Tsubasa, Oli e Benji, io non mi piace il calcio, non mi è mai piaciuto il calcio, quindi non so neanche, io so che è più di una stagione anime, quindi mi sembra 4-5 serie animate, però il calcio non mi è mai interessato. Nella mia famiglia ci sono stati alcuni miei cugini, i miei cugini paterni biologici non lo so, i miei cugini adottivi, paterni adottivi invece penso hanno interesse del calcio, e dei miei 8 fratellastri il mio fratellastro materno, è un fan, ha già praticato calcio, poi assolutamente vedevano Oli e Benji quando era più piccolo, gli altri 3 fratellastri paterni invece, il mio fratellastro di 23 anni, da Facebook dal lato privato e da quando l'ho visto quest'estate qui a Firenze, non di chi mi ha parlato di calcio, quell'altro fratellastro minore non lo so, perché può essere che gli piace a lui, e il mio fratellastro, e il nostro fratellastro, cioè tutte e tre, e poi ho un fratellastro maggiore di 40 anni, penso che lui segui il calcio, io sono l'unico probabilmente dal lato del mio defunto padre biologico a non provare interesse per questo mondo sportivo, mio fratello materno ha preso da mio nonno Ferdinando, il mio nonno materno, mio nonno materno era, anche mia madre lo dice, vedeva tutto, io mi ricordo in estate, lui quando andava a dormire dopo pranzo, faceva le ore di riposo pomeridiano, quando si svegliava doveva mettere il giro d'Italia su Rai 3, sulle rete Rai, e quindi ogni volta che io dovevo vedere i cartoni animati, a volte a volte io mi arrabbiavo, cioè che, vabbè, mio fratello materno ha preso proprio da mio nonno materno, che è proprio tutti gli sport, i DG sportivi, tutti i canali che parlano di sport, quando viene qui in casa, è qui, e se vi interessa il calcio andate a seguirlo. Seconda categoria per le ragazze è lo shoujo, manga shoujo, un manga anime degli anni, di metà anni 70, ma soprattutto, no, gli anni 70 inizi, anni 80, no, penso, metà anni 70 il manga, penso, o inizia anni 80, ora non lo so, sto parlando di Lady Oscar, Lady Oscar ha avuto in Italia diversi editori, casi editrici, sono 21 i volumi, però è un manga, un romanzo di genere storico, la mangaca di Lady Oscar era affascinata dalla biografia di Maria Antonietta d'Austria, che poi diventò regina di Francia, grazie al matrimonio con Luigi XVI, che poi furono uccisi dalla rivoluzione francese al Gioottina, da questo biografo, che fu affascinato, io poi so che lei ha fatto, in seguito, dopo Lady Oscar, un manga dedicato a Napoleone Bonaparte, in cui vengono menzionati alcuni personaggi che appaiono nel mondo di Lady Oscar. Lady Oscar, come sapete, è un manga, moriranno sia lei che sia Andrè, sapete già, quindi quei pochi personaggi che sono rimasti in vita durante la rivoluzione francese, dopo c'è questa serie manga dedicata a Napoleone, penso sia più una biografia sul personaggio di Napoleone, ora non lo so, comunque, i primi editori a pubblicare il manga in Italia furono i fratelli della Fabio Editori negli anni Ottanta. Nel 93 Granata Press pubblica, quindi fu fatta una seconda ristampa, una terza ristampa nel 2001, addirittura dal 93 al 2001, fu fatta da Planet Manga, nel 2011 una quarta ristampa fu fatta dalla ormai defunta casa editrice, chiamiamola così in modo scherzoso, è che l'azienda ha fallito, l'azienda ha fallito, la GP va publishing, mentre la quinta e odierna edizione è stata fatta dalla RV Edizioni nel 2015 in due modi, come si potrebbe dire, come ha fatto Star Comics, con le Perfect Edition e la versione Standard di Sailor Moon. La review RV Edizioni, penso si pronuncia così, chiedo scusa per la mia ignoranza, due modi dei manga, uno con la sovra copertina e un altro dei Dicola, penso sia Standard come me, io ho quelli di Sailor Moon della Star Comics, i prezzi non lo so, però diciamo così, sono molto... ero affascinato di comprarlo, però in casa non c'è proprio tutto lo spazio del mondo, come sapete. Terza categoria è il manga Seinen, quello è rivolto a un pubblico adulto, maggiorenne e non adatte a un pubblico minorenne, è un manga con temi violenti, e ho scelto questa qui, Tezuvan Girl, questa ragazza, questo manga, non solo è della categoria Seinen, ma anche a livello drammatico, genere drammatico storico. Sono nove i volumi, ed è pubblicato dalla Star Comics tra il 2000 e il 2002, quindi inizio anni 2000. Dramatico storico e sportivo, quindi ci sono tre generi. La trama dice che dopo la seconda guerra mondiale il Giappone è uscita sconfitta, perché era alleata dall'Italia fascista e la Germania nazista, sappiamo che a Hiroshima e Nagasaki furono sganciati le bombe atomiche, perché loro, i giapponesi, avevano attaccata Pearl Harbor nelle Hawaii, la base americana, e quindi gli americani si erano vindicati in quel modo. Va bene. C'è la protagonista di questo manga, Tome Kano, che viene descritta che porta speranza alle persone, entrando nel mondo del baseball femminile, probabilmente, e quindi giocando a baseball porta un po' di aspetti più positivi, più a livello, diciamo così, per le persone, per la sua nazione dell'epoca. Non mi aspettavo un manga del genere che una protagonista femminile giocasse a baseball, anche oggi ci sono donne che fanno sport dei maschi, come il calcio femminile, eccetera, eccetera. Il baseball poi anche su Doraemon, Nobita, Gianni su Neo giocano, si è sempre visto nell'anime, e quindi, secondo me, questa va bene. Va bene, insomma, anche conoscendo altri generi manga, grazie a Lugometa Bricks, comunque, va bene. Quarta e ultima categoria, se il 27 ho detto un videogioco che era per la PSP, la prima PSP portatile, Dragon Ball Z da Budokai, oggi si passa a un film. Un film che per me, personalmente, viene da i protagonisti, maschile e femminile, sono due attori che durante la mia esame di maturità feceranno proprio quel film dell'esame di maturità. Sto parlando di Cristiana Capotondi e Nicolás Vaporidis, ma dopo questo, dopo Notte prima dei esami, uno, poi Vaporidis fece un altro seguito, ha ambientato durante l'anno in cui fece la maturità, nel 2006, quando l'Italia vinse i mondiali, l'Italia di calcio ha vinto i mondiali contro la Germania, a Berlino. Mi ricordo che mio zio, che c'è un ristorante, la nazionale, all'epoca l'allenatore, andarono tutti a mangiare lì, nel ristorante mio zio. Il mio zio poi andò anche in televisione, in una rete privata, ha un programma simile a quello che fa Alessandro Borghese, però comunque è un ristorante italiano e non è Notte prima degli esami, ma come tu mi vuoi. Io mi rispecchio molto nel personaggio di Cristiana Capotondi, perché questa protagonista Giada è d'aspetto fisico, non ha amici, ha un odio contro tutti. Quando mi dicono tutti quanti, tu hai degli amici, e quando io dico non ho amici qui a Firenze, non ho amici, mi riferisco qui in questa città. La stessa cosa che io mi reputo come il personaggio interpretato da Cristiana, mi vedo in me stesso, proprio così, che non vengo accettato dalle persone, dai fiorentini specifico. Io ho i miei amici youtuber, ho tante persone di fuori dell'Italia, della Toscana e della Campania, in altre regioni d'Italia, ma io sto parlando dei fiorentini, quindi non mi scrivete sotto dicendo io sono amico e non è vero che tu non hai Darkness, Sergio Livorsi, mi hanno scritto in un history vlog, qualcosa del genere. E praticamente Cristiana, come sapete, il personaggio di Cristiana, dopo una trasformazione estetica e via, per fare un innamorarsi del personaggio interpretato da Nicholas Vaporidis, cambia d'aspetto, cambia vita, diciamo così, viene accettata nel mondo, nella società. Poi sono, frequentano l'università di sociologia, quindi anche l'università, anche per questo che mi attira. Quando a settembre io non avevo internet, diciamo così, me lo guardavo sempre, sempre, perché ce l'ho, ce l'ho il DVD originale, me l'hanno regalato, un compleanno passato, il DVD originale, quindi vedo sempre, nel computer, vedevo sempre, vabbè. Allora, i miei social network, a tutti nell'infobox, questo è durato molto più, non vi dico nulla, andate a seguire i video di Wex e di Luca Metabrexia, i youtubers e i team le trovate nell'infobox, stessa cosa i miei social network, il mio secondo canale, Saremo un fan se fia da Amazon, quindi noi ci vediamo, in un prossimo video, che probabilmente sia ancora, questi video collaborazione. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!